Ciao Serena, intanto grazie per aver citato il nostro invito. Ciao, grazie a voi. Allora, intanto facciamo una premessa. Noi parliamo alla luce degli episodi che sono già andati in onda, quindi è un'intervista che sarà carica di spoiler per chi ancora non ha avuto modo di vedere almeno le prime 6 puntate della serie. E chi prosegue a vedere il video è avvertito. Parliamo ovviamente di Viola, perché la storia di Viola è tratta dalla vera storia di una ragazza che è detenuta effettivamente nel carcere di Nisida, che è l'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Volevo chiederti se hai avuto modo di incontrarla per prepararti al ruolo. Purtroppo io non ho avuto modo, perché nel primo anno il regista ha portato soltanto i ragazzi maschi del cast al carcere, però per fortuna ho avuto tanti racconti di questa ragazza che loro hanno conosciuto. Quasi meglio che io non l'abbia conosciuta, perché sicuramente non mi sarei ritenuta all'altezza di ricreare una persona così tanto deviata. Lei mi hanno raccontato che era proprio completamente disconnessa, lei prendeva le ciocche di capelli e se le leccava, era una ragazza che ti guardava negli occhi e riusciva ad allargare e restringere le pupille, stava sempre sola. Tutti i detenuti, tutte le detenute avevano paura di lei. Praticamente mi hanno detto che quando si avvicinavano sentivano proprio freddo, cioè per quanto sia una cosa che sembra assurda, ma sentivano proprio il gelo attaccarsi addosso da questa ragazza, cioè anche esteticamente era molto particolare, ecco. Ti somigliava esteticamente? No, 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 hanno detto che non era una bella ragazza, molto alta, molto grande, molto mascolina, cioè si vedeva anche soltanto a guardarla che è una persona che non sta purtroppo bene, ecco. Tu sei originaria di Torino e Napoli quindi ti ha un po' adottato per diversi anni. Cosa hai intenzione di fare adesso? Resterei ancora lì o hai già intenzione di cambiare? No, no, io adesso sono tornata a Roma perché vivo a Roma. Adesso che ho concluso questo grande ciclo di Mare Fuori comincio a rimettermi in gioco con Provini e vediamo come va. Mi piacerebbe davvero, dopo questa esperienza di Viola, che è stata comunque molto pesante per certi aspetti, intraprendere un percorso completamente diverso. Anzi, mi piacerebbe quasi fare commedia a questo punto, cioè qualcosa di proprio spinto da tutt'altra direzione, ecco. La recitazione è un po' entrata per caso nella tua vita, no? Perché tu nasci come musicista, hai studiato conservatore per anni, pensi di aver trovato la tua strada? Cioè la recitazione è effettivamente quello che vuoi fare nella vita? Allora, è una bella domanda perché io, per la mia personalità, una cosa non è mai abbastanza. Recitare è sicuramente la mia vita, ci sono mille ruoli, tanto studio da fare dietro, tante ricerche, ogni volta è una cosa nuova, però l'emozione che mi dà la musica è irraggiungibile. Cioè nel senso, io di sicuro adesso, dopo tantissimi anni di conservatorio, poi ho lasciato, però di sicuro presto mi ci riavvicinerò perché è un mondo che proprio è magico. Io sono appassionata, ho studiato tanto musica barocca e musica antica, è tutta un'altra vibe, ma non posso proprio farne a meno nella mia vita, cioè arte proprio allo stato puro, ecco. Quindi mi piacerebbe, insomma, intraprendere diverse strade perché una sola non è abbastanza per me, non so se sembro esagerata, ma ho bisogno dello stimolo costante, ecco. E rimaniamo in questo ambito. Se dovessi descrivere sia te che Viola con delle canzoni, una a testa chiaramente, quali sarebbero? Bellissima domanda. Allora, ci penso un secondo... Beh, Viola mi ricorda, ed è un brano che spesso ascoltavo prima di preparare delle scene... Ti dirò due brani. Vai, vai. Cerco di essere veloce. Allora, per Viola sia il Dies Irae del Requiem di Britain. Questa è la scelta classica. Ok. Invece, che questa l'ho ascoltata tante volte, proprio per entrare nel devasto del personaggio, cioè proprio un'orchestra gigantesca, un coro gigantesco, una cosa travolgente. Invece una canzone che ho ascoltato a Loop quest'anno, mentre stavo preparando le scene di Viola, specialmente il giorno... Vabbè, ormai lo possiamo dire, il giorno in cui ho girato la mia morte, è stata Pride di Kendrick Lamar. Per me straziante. Mi faceva proprio venire un sacco di amaro, di malinconia, che alla fine è come la morte di Viola. Lei è morta incompresa, è morta sola, e senza arte, senza amore, senza niente. E niente, questa canzone non si sa perché, proprio in Loop. Addirittura Spotify mi ha detto che io quest'anno ho ascoltato questa canzone 300 volte. Invece, per me ne sarò breve, allora diciamo la mia storica, il mio storico brano di Serena è questo che ho tatuato, che è Bach. È un brano dalla passione secondo Matteo che si chiama Erbar Medich, cantato da un contraltista. E questo oggi ce l'ho da quando avevo 15 anni. Hai più volte raccontato nel corso degli anni di essere stata riempita da persone per utilizzare un eufemismo poco intelligenti che ti hanno riempita di insulti, di offese e quant'altro, no? Noi stessi, come Chark Generation, abbiamo riportato le tue ultime dichiarazioni, nel tuo ultimo sfogo su questa cosa. Volevo chiederti se ti hanno ferita e qual è stato l'insulto più pesante, più brutto che hai ricevuto. Allora, all'inizio mi hanno ferita, sì, perché Mare Fuori è stato il mio primo set e quando è uscito a vedere tutto questo successo, però tutto questo odio nei miei confronti, perché io ti assicuro, certi messaggi sono veramente brutti. All'inizio mi ha ferita, ma poi ho imparato che, cioè, andando avanti, comunque le persone ti odiano, però ti vanno a seguire su Instagram, si rendono conto che tu stai solo recitando, eccetera. Quindi adesso c'è questo motto, praticamente, odio Viola, ma amo Serena. Cioè, tutti quanti dicono questa cosa. Poi, tra l'altro, anche il fatto di essere così tanto odiata è parte anche comunque del fatto che alla fine forse qualcosa di buono l'ho fatto con questo personaggio, perché sicuramente Viola non deve essere idolatrata, ecco. L'insulto più brutto, io, guarda, non te lo posso ripetere, perché mi sono arrivate certe cose che proprio io sono veramente pesanti anche, ma sono ragazzini, quindi non mi turba più proprio minimamente. Mettiamoli da parte, invece volevo chiederti com'è cambiata la percezione del pubblico dopo aver conosciuto finalmente la vera storia di Viola? È cambiata parecchio. Quando sono uscite tutte le puntate su Rayplay, mi permetto di dire questa cosa, qualche giorno sono rimaste in onda su Rayplay integrali, però poi per alcuni motivi hanno dovuto tagliare delle parti di Viola da bambina, quindi non è più disponibile la parte integrale delle mie scene, della mia storia, ecco. cioè è stata molto molto censurata, però devo dire che all'inizio ho ricevuto messaggi strazianti, ma belli, cioè proprio da genitori, anche da un sacco di persone che erano veramente tristi della perdita di Viola, ma specialmente del fatto che non abbia mai avuto la possibilità di essere salvata. Tutte le persone si rendono conto che lei non doveva essere in carcere, ma doveva essere in un istituto psichiatrico, e soprattutto tanti messaggi da genitori che mi hanno scritto grazie per questa interpretazione, perché è molto sensibilizzante nei confronti di noi dobbiamo renderci conto di come trattare i nostri figli, come vederli meglio, come amarli di più e in modo diverso conoscendo quello che è successo alla povera Viola da piccola, ecco. Volevo proprio agganciarmi a questo discorso che hai fatto, che secondo me è giustissimo. Non mi sembra, ricordando un po' a memoria, che ci sia stato un approccio terapeutico ai disturbi evidenti di Viola, no? Non pensi che questa sia stata un po' un'occasione persa per la serie? Che è una serie brillantissima per molti aspetti, ma forse qui poteva fare qualcosa di più? Io penso di sì, però purtroppo penso anche che al giorno d'oggi la sanità mentale, la terapia, la cura è ancora molto un tabù, perché le persone, proprio io me ne rendo conto anche nella mia generazione, nei più giovani, nei più grandi, tutti quanti pensano che comunque col dolore ci nasci, ci nasci e te lo porti fino alla morte, cioè non c'è modo di guarire, non c'è modo di stare bene, e invece c'è come. Però purtroppo la serie, essendo abbastanza fedele alle vere strutture di pena minorile, cioè per esempio nei carceri minorile non ci sono terapeuti, ci sono degli educatori che chiaramente non fanno niente da questo punto di vista. Credo che sia stata un'occasione persa, credo che sarebbe stato ancora più, considerato il successo, ancora più un'occasione per sensibilizzare le persone alla cura, al percorso di terapia, aprire una porta anche su questo argomento nella serie, però... Negli ultimi istanti di vita di Viola, la ragazza un po', sembrava quasi iniziare a fidarsi di Paola, no? che è la direttrice. Secondo te, c'è qualche rapporto di Viola che poteva essere raccontato in maniera più approfondita? Beh, di sicuro questa cosa degli ultimi istanti di vita con la direttrice è stata una scelta anche per strappare le lacrime, ecco, cioè se fosse stato più approfondito di sicuro non avrebbe avuto così tanto effetto. Il fatto che lei all'ultimo, insomma, sembra quasi avere una redenzione, ma anche con le sue compagne di carcere, ecco, cioè lei è sempre quella pazza, però effettivamente è come se facesse dispetti, ecco, cioè fa questi brutti, cioè cose brutte, pesanti. Lei non ha conosciuto mai l'amore, lei la sua forma d'amore era l'odio, la violenza, quindi chiaramente la incitava, però tutto quanto secondo me poteva essere un po' più approfondito, però forse un'altra serie. Serviva un villain principale e quindi Viola era perfetta in quel ruolo, insomma. Sì, sì, esatto. Durante l'ultimo giorno sul set hai avuto modo di fare il classico discorso di addio, tra virgolette, al resto del cast? No, perché il mio ultimo giorno di set è stato il giorno in cui ho girato la scena flashback con mia madre. C'era nessuno del cast, cioè il mio giorno eravamo io con lei il regista, chiaramente niente discorso, cioè non c'è stato questo, no. Ok, e se dovessi farlo adesso? Da più che farlo al cast a me piacerebbe farlo al pubblico, per ribadire il fatto che nonostante magari tante persone anche che ci seguano abbiano un'infanzia come quella di Viola, ci si può sempre salvare. Non bisogna per forza finire come lei, c'è sempre un modo per salvarsi, per vivere felici e stare bene. Cosa ti mancherà invece maggiormente sia di Marefuori che di Viola? Di Marefuori mi mancherà tantissimo, tantissimo, ma proprio che mi spezza il cuore, le amicizie che ho creato. Ormai dopo tre anni che stiamo insieme ho creato veramente delle amiche che sono sorelle per me, quindi penso che andrò a trovarli spesso. Di Viola guarda ti dico è stato anche un sollievo finire perché comunque un personaggio così pesante mi sento proprio che sono libera, capito? Adesso si va al prossimo capitolo. Invece hai rubato per così dire qualcosa dal set di Marefuori? Qualche ricordo che ti sei portato a casa? Dalla prima stagione mi sono portata gli stivali di Viola, dalla seconda stagione non mi sono portata a niente. Dalla terza stagione invece ho portato un oggetto che mi sta proprio nel cuore. Nella scena con mia madre quando sono vestita con le ali, con tutto quel costume particolare, ho una collana con un Care Bear tipo rosa e viola shocking e mi sono portata a questo piccolo ricordo da questa scena così forte e così anche unica. Per me è la Viola della terza stagione, ecco. Nel corso di questi anni ho avuto la possibilità di intervistare diversi attori di Marefuori, no? Una domanda che ho fatto è una sorta di gioco del fantacasting, cioè immaginiamo una versione americana di Marefuori, quindi non so a Los Angeles con carcere fronte mare, no? Fronto gioco in questo caso. Ti immagini? Sì, sì, sì. Allora, ce l'ho, io ho pensato a una Margot Robbie stile Harley Quinn che lei è proprio, cioè, ok, cioè lei è proprio la pazzia che porta in quel ruolo la, proprio la, è lei. Io ho pensato subito a lei, sinceramente. Specialmente anche ti dirò nel film Tonya è ricordato un sacco certi sguardi, certe inquadrature era proprio fuori, cioè fuori, fuori, fuori. E poi ho pensato anche a Kristen Dust, lei nei film di Lars von Trier assolutamente, tipo melancolia, specialmente la terza stagione dove si arriva a una depressione di viola proprio extra. Quindi io ho pensato a queste due attrici. Ne parlavi prima, no? Sei tornata a Roma, ti stai rimettendo in gioco, diciamo, quindi nuovi profini, eccetera. Cosa c'è nel tuo post Marefuori? Quali sono i progetti futuri che sono già in cantiere se ce ne sono? Allora, al momento non ce ne sono, però ho ripreso proprio adesso da poco a fare provini e sto facendo molti provini con ruoli completamente diversi da viola. Il mio sogno sarebbe appunto o fare commedia o fare qualcosa d'epoca. Ora vediamo che cosa succederà. La domanda invece conclusiva che faccio a tutte le persone che ho avuto il modo di intervistare nel corso degli anni è qual è la tua serie tv preferita in assoluto? Cioè la prima che ti viene in mente di getto? The Office. Ok. Non te l'aspetteressi ma sì, l'ho rivista penso diecimila volte e penso che lui sia un genio della commedia. Cioè se potessi fare qualcosa di simile nella mia carriera sarebbe proprio un sogno, un sogno, un sogno. Cioè far ridere le persone così tanto quanto questa serie ha fatto ridere me sarebbe proprio... Questo si vede la necessità di voler trovare altro, di fare proprio qualcosa di completamente diverso. Sì, ma anche perché comunque in questa società e in questo mondo che ormai è quello che è secondo me di pesantezza ce n'è già abbastanza. Io vorrei dare il mio contributo per invece magari regalare un sorriso agli altri, capito? Cioè far divertire, fare alleggerire in un certo senso. Ciao ragazzi, se non avete visto mare fuori correte a vederlo. Un bacio grande da Serena.